Un posto al sole anticipazioni. Un personaggio viene misteriosamente aggredito. Lunedì, 23 settembre 2024. Una nuova udienza è vicina. Ida vive momenti di forte tensione, soprattutto dopo le deposizioni rilasciate da Raffaele e Diego. Continua, intanto, l'incredulità di Filippo e Serena di fronte all'arroganza di Roberto, il quale invece si sente sempre più sicuro di sé. L'imprenditore, sempre più prossimo al suo obiettivo, si assicura che Lara faccia esattamente ciò che le ha chiesto di fare. La Martinelli cederà questa volta? Oppur si fermerà all'ultimo minuto? Intanto, non solo Alberto ma anche Nico si sente minacciato da una possibile vendetta di Angelo Torrente. Mentre la polizia è sulle sue tracce, Eugenio e Lucia non riescono ancora a scovare il vero nascondiglio del boss. Alberto potrebbe aiutarli a risolvere la situazione? Ascolterà i consigli del suo collega ed amico? Nel frattempo, il rapporto tra Guido e Mariella sembra essere ritornato solido come lo era un tempo. La tregua quanto durerà? Martedì, 24 settembre 2024. Si avvicina alla sua conclusione il complicato processo che decreterà finalmente la custodia del piccolo Tommaso. Ida vive nuovi momenti di agitazione. Proprio quando tutto sembra essere pronto per il verdetto, la polizia fa una scoperta drammatica che rimette tutto in discussione. A pagarne il prezzo più caro è una persona molto legata a Roberto Ferri. Di chi si tratterà? Rosa e Damiano, nel frattempo, si incontrano segretamente per aggiornarsi sulle indagini per la ricerca di Angelo Torrente. La Piccariello avrà scoperto qualcosa di interessante. Il poliziotto, nel frattempo, decide di procedere con un'iniziativa che potrebbe finalmente avvicinarlo al nascondiglio del pericoloso latitante. Il suo piano si rivelerà valido. Nico sprona Alberto a reagire ed a non rassegnarsi al suo destino. Silvia è pronta a rivedere Nunzio per decidere quando iniziare i lavori del restyling del Caffè Vulcano. Mercoledì, 25 settembre 2024. Filippo, dopo essere stato messo al corrente di una terribile aggressione ai danni di una persona a lui ben nota, realizza un sospetto impensabile quanto probabile su Marina Giordano. Intanto, Nicotera e Cimmino riflettono sulla richiesta di Damiano. La gente vuole avere un ruolo più centrale nelle ricerche del boss Torrente. I due magistrati accetteranno oppur decideranno di procedere con maggiore cautela. Si presenta, intanto, per guido un momento importantissimo, quello di rivedere il piccolo Lorenzo. L'uomo, però, diversamente da quanto pronosticato, resterà del tutto spiazzato dalla reazione del figlio. Nico nota che Manuela, negli ultimi tempi, è molto triste ed affranta. Inoltre, intuisce che è sempre più lontana da Costabile. Determinato a scoprire la verità, decide di parlarle. La Cirillo riuscirà a rivelargli di essere stata ingannata e derubata dal suo fidanzato? Giovedì, 26 settembre 2024. Mentre da una parte continuano senza sosta le ricerche dell'aggressore e il campo inizia a stringersi sempre di più, dall'altra per Marina alla situazione diventa sempre più difficile. La donna, infatti, rischia il carcere. Intanto Damiano scende in prima linea per dare la caccia al boss Angelo Torrente. Viola, in preda all'ansia e dai brutti pensieri, non riesce più a nascondere la sua grande preoccupazione al riguardo. Dopo il rifiuto di Lollo di andare a dormire da lui, in guido si accende uno strano sospetto. Che ci sia lo zampino di Mariella in tutto questo? La donna si sta servendo del figlioletto per raggiungere i suoi scopi. Il piccolo, quasi improvvisamente, non ne vuole più sapere di trascorrere del tempo con il papà. Tutto questo non fa che riavvicinare emotivamente il vigile a Claudia Costa. Rossella continua ad essere elogiata dal primario. Riccardo vede in tutto questo qualcosa di strano. Venerdì, 27 settembre 2024. La polizia decide di sentire ancora una volta la testimonianza di Marina Giordano. Questa volta, però, la sua posizione potrebbe aggravarsi ulteriormente. Nel contempo, Ida decide di mentire riguardo ai fatti della notte dell'aggressione. Manuela, dopo aver vinto l'iniziale imbarazzo, decide di raccontare a Nico i dettagli della sua disavventura legata al parco archeologico. Finalmente, si apre con il suo ex e gli rivela che l'altieri si è impossessato, indebitamente, del denaro richiesto per dare inizio al suo progetto. Inoltre, aggiunge che Filippo e Serena stanno facendo tutto il possibile per rifinanziarlo. Nunzio e Silvia si rivedono per discutere della ristrutturazione del caffè Vulcano, progetto affidato all'architetta Diana della Valle. Nascono delle piccole divergenze che mettono Rossella in uno stato di forte agitazione. Alla fine, la Graziani ed il Camarota riusciranno a superarle? Grazie a tutti! Grazie a tutti.